è l'unica donna leader di partito in circolazione ma è anche percepita come quella dotata di maggior peso politico parliamo com'è chiaro di giorgia meloni secondo un sondaggio dell'istituto piepoli la presidente di fratelli d'italia stacca e di molto tutte le altre in classifica ottenendo la preferenza del 53 per cento degli intervistati basti pensare che chi la segue nella graduatoria emma bonino racimola appena il 18 per cento è di tutta evidenza che a giocare in favore della meloni è la sua carica di leader di partito con le ricadute che tale condizione comporta sotto il profilo mediatico ma è altrettanto vero che questo da solo non basta giustificare il distacco dalle altre spazio su tv e giornali trova in abbondanza anche il ministro dell'interno luciana lamorgese ma l'ex prefetto è solo terzo con il 16 per cento subito dopo tra le donne con maggior autorevolezza e peso politico il sondaggio trova la seconda carica dello stato maria elisabetta alberti casellati per l'attuale presidente del senato hanno votato 15 intervistati su 100 a pari merito attestate sul 7 per cento troviamo invece maria elena boschi e la ministra della giustizia marta cartabia quest'ultima prima della nomina guardasigilli è stata la prima donna a rivestire il ruolo di presidente della corte costituzionale grazie a tutti